21 anni dopo la scomparsa di Angela Celentano sfuma anche l'ultima pista abbattuta per ritrovare la bambina scomparsa sul faito il 10 agosto del 1996. È stata rintracciata dalla procura di torri annunziata Celeste Ruiz, la ragazza messicana che cinque anni fa sostenne di essere la stessa persona che nel 2010 aveva contattato la sorella di Angela asserendo di essersi riconosciuta nella foto della bambina del faito. Ma secondo quanto si è appreso l'esame del DNA avrebbe dato esito negativo Celeste non è Angela. La foto infatti ritrae una donna messicana che ha 12 anni in più di quanti ne avrebbe oggi Angela ed è residente in Francia. L'immagine con ricompensa diffusa sui giornali in Messico ha permesso di rintracciare la persona ritratta in foto che si è sottoposta al test del DNA e che ha escluso totalmente la possibilità che possa essere lei Angela Celentano. In pratica la donna è stata vittima di un clamoroso furto d'identità utilizzato e non si sa per quali ragioni con riferimento alla bimba scomparsa. Aveva scattato ad una festa quella foto che fu poi pubblicata online. Ma quella immagine è stata rubata dalla rete e utilizzata per costruire la falsa identità di Celeste Ruiz da un cittadino messicano che contattò i Celentano sostenendo di essere la loro figlia scomparsa. La pista messicana dunque si è chiusa ma le ricerche di Angela Celentano continuano. Le indagini spiega il procuratore Pennasilico non si chiudono assolutamente qui stiamo rivedendo i passaggi meno chiari dell'inchiesta per non tralasciare nulla. Intanto nei giorni scorsi sono ripresi gli interrogatori dei testimoni dell'epoca e gli altri accertamenti del caso.